We don't want no hero Ho scelto io ed è stato il gol di Mertens contro la Fiorentina Quindi qual è lo scopo della serie? Andare a simulare il gol che ha fatto quello dell'1-0 E simularlo appunto qui su FIFA Ok raga stiamo per iniziare Io vi ricordo che in descrizione troverete anche Ecco già iniziamo bene Troverete il link con il gol di Mertens Io purtroppo per copyright non posso inserirvelo all'interno del video Però vi lascio il link in descrizione Ecco Driss che prende palla Arrivise dell'aria No La palla è buona però aspetta No Eh ma che sfiga Driss la posizione è buona No però No forse ero troppo fuori aria e la palla era un po' altina 1-0 C'è Riguain Sale con la squadra Il Pipita Serve Driss La posizione è buona La posizione Ma no Che recupera palla Il Pipita La scarica per Driss Attenzione a Driss E rimisederla Le prova al destro Porca miseria Porca miseria Neto Amsic Recupra palla Adesso il Pipita Che fa salire la squadra Poi Lopez Per Amsic Amsic Serve Driss Driss Arrivise dell'aria al destro Ancora Neto Amsic La scarica per il Pipita La scarica per il Pipita Il Pipita adesso Per Mertens Driss Arriva all'inizio dell'aria Carica al destro Ma ancora? Ma io non capisco Che cazzo c'ha oggi Neto? Iguain Bellissima la palla Che ha ricevuto il nostro bomb Adesso per Driss Che carica al destro No Ma basta Amsic La scarica per Iguain Che aspetta Driss Attenzione Driss All'inizio dell'aria Driss Il tiro a giro E vabbè Io non capisco Neto Oggi l'hanno drogato Mertens La scarica per Amsic Adesso il Pipita Iguain Iguain Vede l'arrivo di Driss Driss Dalle vite dell'aria Il destro Ma mio povero Miller Adesso serve Mertens L'azione buonissima Driss Non puoi sbagliare Porco La palla è buona Driss Eccolo E' arrivato il gol Finalmente Abbiamo fatto Un sacco I tiri Paticamente Iguai La posizione è quella Il tiro a giro Anche Fantastica La rete Del nostro bomber Siamo riusciti Per questa Volta a simulare Il gol Mi raccomando raga Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Passate alla prossima Facebook Dove sarete voi Quindi a consigliarmi I prossimi gol Da simulare Nella prossima settimana Ci vediamo nel prossimo video Passate da Facebook Instagram E da tutti i link In descrizione Bella raga Allora Grazie a tutti.